I giocattoli inseriti in questo spot possono essere rappresentati in modo diverso dal giocattolo originale. Batmach Online. Sistema difensivo inserito. Sarà importante se il commissario Gordon vuole vedermi a quest'ora, ma il guardiano di Gotham City ha il parcheggio riservato. Se no avrei girato intorno all'isolato per ore. Eccolo là! Il guardiano di Gotham City! Sapevo che era grande, ma lo sembra ancora di più dal vivo. Guarda, alto più di 120 metri. Due motori gemelli alimentati a idrogeno con più di 22.000 chili di spinta. Telaio rinforzato in acciaio con blindatura in lega di titanio solido come una roccia! Cittadino, non si avvicini al veicolo. Oh, certo. Chiedo scusa. Perché Batman ha tutte le cose più belle? Esibizionista! Non è giusto! Non si avvicini al veicolo. Ultimo avvertimento. Ah, sì? Perché non ti allontani tu? Inizializzazione passi. Non intendevo dire questo! Devo portare il guardiano a fare un giro. Ma prima bisogna disattivare le difese di prossimità. Questo scrambler dovrebbe bastare. Facciamo una prova. Ha funzionato! Ora basta raggiungere la cabina di comando. E adesso... Si parte! Accidenti, questa cosa è... alto! Spero di resistere. C'è mancato poco. Sistema difensivo inserito. Perché lo scrambler non funziona? Inizializzazione protocollo anti-ancoraggio. Ehi! Non avresti dovuto riuscirci! Grazie del feedback. Addio. Se non posso usare la corda, devo trovare un altro modo per raggiungere la cabina. Troppo divertente! Ci sono quasi! Attenzione! Rilevato uso improprio del tappeto elastico. Oh oh! Se non riesco con gli attrecci, dovrò usare l'intelligenza. Scusi, signor guardiano, lei può parcheggiare qui? Affermativo. Beh, io non vedo cartelli che l'autorizzino a farlo. Scansione del parcheggio autorizzato. Caspita, sarebbe un peccato se qualcuno dicesse alla polizia di Gotham City che ha parcheggiato illegalmente. Ingrandimento dell'area di scansione. C'è cascato! Non esiste che questa tavola possa reggere quel gigante. Quando il guardiano cercherà di parcheggiare qui, cadrà per terra dandomi l'occasione perfetta per saltare in cabina. Parcheggio autorizzato rilevato. Arriva! Inizializzazione sequenza di parcheggio. Oh oh oh! Questione di secondi! Attenzione! Limite di peso superato. Sei! Torna indietro, inutile! Ammasso di metallo! Avevo riservato questo parcheggio apposta per te! Ah! Hai vinto tu per questa volta! Parcheggio autorizzato rilevato. Batmecha Online. Sistema difensivo inserito. Forse sono stato fin troppo intelligente. Proviamo con la forza bruta. Questa palla da demolizione non scalfirà il guardiano. Ma lo farà cadere e finalmente io potrò salire! Inizializzazione manovra diversiva. Oh oh! L'attacco da terra non ha funzionato. Allora proviamo dal cielo! Uh! Ahahahah! Uh! Dovrei farlo più spesso! Perché può divertirsi solo Superman? Versaglio a canzare! Vai! Inizializzazione manovra diversiva. Ah! Qualcuno ha preso la targa di quel mech! Ok, signor guardiano, ha vinto lei! Contento? È semplicemente troppo grande e troppo avanzato per essere rubato. Tutto quello che volevo era solo fare un bel giro per Gotham City. Che cosa c'è di male? Allora, che cosa dice? Affermativo. Veramente? Evviva! Ha ha! Guardiano, lei è il massimo! È stata una bella giornata! Ma è meglio che me ne vada prima che torni Batman. Si arrabbia se mi sorprende qui con lei. Lo faremo di nuovo, ok? Affermativo. Inserire i sistemi di sicurezza. Sistemi di sicurezza inseriti. Non sopportavo l'idea che Red Hood tenesse il muso. Spero che abbia apprezzato il pomeriggio con te. Affermativo. Mi fa piacere. E adesso torniamo al lavoro. Abbiamo da fare per il commissario Gordon. Batman Online. Perché la cabina è piena di sabbia? Non sopportavo l'idea che non sopportavo l'idea che non sopporto 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 l'idea che non